Dobbiamo lavorare nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei nostri quartieri. Questa è la forza della processione, scegliere sempre la strada del bene, creare solidarietà, mai vendetta, non entrare nella logica mortale delle armi o delle guerre. Sosteniamo invece lo sviluppo e la crescita nei paesi lontani, creando lavoro e dignità. Dalla notte non si esse con un'altra notte, ma con una lucerica, piccola ma capace di illuminare. E allora a questa bella città, concludendo, lascio a voi tre impegni, tre mandati. Primo, rafforzare la nostra identità di città e di Molise, anche in vista della prossima visita del Presidente Mattarella il 22 di aprile e della imminente festa di San Giorgio, che ci identifica il giorno dopo. Anche questa processione, come tante altre in città, danno identità. È la Chiesa, è la fede che costruisce l'identità e crea cultura. La Chiesa restituisce coraggio, speranza. La corte d'appello va difesa a ogni costo. La terra va amata e coltivata, l'arte rilanciata, la biblioteca non chiusa. I colori ce l'ho resi più vivi. E difendiamo la famiglia. Cuore e cantiere di identità, non spappolate nel generico. La difesa della sua identità nativa e naturale ad ogni costo. Grazie.